Aynette Stevens incanta il web con la sua assurda bellezza e il suo corpo da favola. Dà appuntamento ai suoi fan ma loro guardano altro. Aynette Stevens sta facendo impazzire i suoi tantissimi e affezionati follower su Instagram. Pochi minuti fa ha postato una sua foto che la ritrae come sempre bellissima e sensuale. Nello scatto la meravigliosa modella venezuelana indossa pantaloni trasparenti che lasciando intravedere le sue gambe da urlo. Ad ammaliare soprattutto i fan è però la profonda scollatura del top. Inevitabilmente l'occhio cade sul suo pazzesco décolleté. Con le sue curve da sogno sta facendo perdere la testa a tutti coloro che la seguono e la amano. È bella da impazzire. Nella didascalia del post Aynette Stevens dà appuntamento ai suoi follower a stasera, per la sua nuova diretta Instagram. Ai suoi fan chiede se ci saranno, questi la stanno riempiendo di complimenti e l'ichè. C'è chi le ha scritto di essere già collegato per seguirla, un utente le ha invece detto che le farebbe una statua per via della sua bellezza. Aynette Stevens ama stuzzicare i suoi tantissimi follower su Instagram con foto e pose provocanti e sensuali. Spesso pubblica infatti scatti che esaltano non solo la sua incredibile bellezza ma anche il suo corpo favoloso. Ogni volta manda il web inti. Più sensuale e bella che mai la modella ungherese riesce sempre a conquistare i consensi dei suoi tantissimi seguaci, questi non perdono occasione per ricordarle quanto sia stupenda. Con le sue curve da sogno e la sua bellezza spacca sempre Instagram. Grazie a tutti. Grazie a tutti.